Arcom elettronica? Sì, è l'elecortineria. È partito l'allarme della sua macchina, scenda, perché è un rumore insopportabile. Buongiorno. Comando dei carabinieri. Ho chiamato tante volte e non avete mai fatto niente. Allora ci ho pensato io. Ho messo una bomba nel suo ufficio. Esploriva tra 40 secondi. Arla. Filippa. Filippa Packard. No, senti, non ce la faccio, venire prima delle sette. Però ho da fare qui. Scusami. Tu aspettami. Vabbè, ti raggiungo dopo a caso. Ciao. Non è alto. Troppo alto. Bene. Scusate, aspetto il prossimo. No, no, perché c'è tanto spazio. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.